Appena mi hanno invitato io ho accettato perché effettivamente adoro questo, anzi mi meraviglio che se ne sei non accorso che ci sono gli IMI soltanto dopo 80 anni. Io ho lavorato intanto due mesi al fronte, in continuazione per due mesi di seguito il sottobombardamento, ecco, è la cosa peggiore. E poi lavoro naturalmente nelle fabbriche per 12 ore al giorno, poco cibo e nient'altro, è soltanto lavoro e basta. In ritorno è stata una cosa meravigliosa, prima di tutto perché si hanno convocato lì a Pesca Antina, si hanno accolti come dei salvatori del mondo, hanno preparato un pranzo eccezionale e direi anche si hanno vestiti perché eravamo, e più tanti eravano senza indumento. Leggevole le donne e gli uomini, io dico soltanto di essere naturalmente, di pensare al bene di tutti, eliminare le guerre e di conseguenza tutto quello che era accaduto a quei tempi.